endless love anticipazioni. Tufan sta accompagnando Zeynep in una clinica per farla abortire. Appena lui si allontana un attimo, la giovane si imbatte in Asu e le rivela tutto. E qui inizia il vero colpo di scena. Asu decide di aiutarla a fuggire. Cosa pensate voi, al posto di Asu, avreste fatto lo stesso? Fatemelo sapere nei commenti. Le due ragazze corrono da Kemal, contattato da Zeynep in preda al panico. Decidono di inventare una storia. Zeynep, esasperata dalle pressioni di Vildan ed Emir, aveva pensato di abortire. Zeynep chiede al fratello di ospitarla per qualche giorno. Intanto, Nihan e il suo spregevole marito Emir sono in macchina, quando un guasto ai freni li manda fuori strada, schiantandosi contro un albero. Natsif chiama subito l'ambulanza, salvando le loro vite. Emir, però, è furioso e sospetta che Kemal sia dietro l'incidente. Specialmente dopo aver visto un video in cui l'auto di Kemal si trova vicino al luogo del sinistro. Kemal va a parlare con Emir, negando ogni accusa e spostando i sospetti sul misterioso fratello. Onder vuole spiegazioni da Galip sull'incidente, ma il consuocero non cede. Nihan si dedica, anima e corpo, al progetto della scuola, per non pensare alle pene d'amore, mentre Kemal e Zeynep indagano sull'incidente, cercando il testimone oculare che ha chiamato l'ambulanza. Nel frattempo, Ozan scopre che Zeynep era sul punto di abortire e cerca di convincerla a tornare a casa. Tariq vuole presentare Banu alla sua famiglia, ma Feime si oppone categoricamente. Emir indaga sulla presenza di Asu nella clinica e sul noleggiatore dell'auto avvistata sul posto dell'incidente. Nazif informa Aki che dietro l'incidente c'è Tufan. Tariq parla ai genitori dei suoi sentimenti per Banu, ma viene duramente criticato. Ozan accusa Nihan e Vildan di aver spinto Zeynep a lasciare la villa. Vildan chiede a Nihan di parlare con Zeynep e la pittrice sorprende Zeynep in compagnia di Emir. Sempre più sospettosa, scatta una foto. Zeynep, sola con Nihan, manda un messaggio a Emir. Nessuno deve mettere in pericolo la vita del bambino che porta in grembo. Nel frattempo, Zeynep trova il nome del testimone, Nail Boskam, e con Kemal lo raggiunge. Con grande sorpresa, scoprono che è su una sedia a rotelle e afferma di non essersi mai mosso di casa quel giorno. E ora, ditemi, chi potrebbe essere il vero colpevole dell'incidente? Scrivete le vostre teorie nei commenti.